A di oggi va Da che hai fatto un mezzo a testa Raci un c'eva Hai dovuto fare un misaggio Cu macazuri si cu cine Da, da, non hai ce sa faci Taci Casi vedi come intro era Fara veasa sau ego Diminata omul meu Se coboare la metro Casi vedi come intro era Cu macazuri si cu rame Omul nostre incur pe scaun Si rezolva integrame Diminata omul nostre coboare la metro Diminata omul nostre coboare la metro Diminata omul nostre coboare la metro No, 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 no. No, 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 no Grazie.